Dopo 30 anni c'è finalmente il progetto per il nuovo ospedale di Siracusa che sorgerà a sud del capoluogo. La commissaria straordinaria per la progettazione sta adesso verificando che tutto sia in regola. L'inviata Lucia Basso. Siamo nella fase di accertamento sul possesso dei requisiti in capo al provvisorio aggiudicatario. Completata questa fase che confido possa essere definita in pochi giorni, la settimana prossima il Presidente Musumeci verrà a presentare l'idea progettuale e subito dopo si partirà con l'affidamento e la stipula di un protocollo di legalità. A distanza di poco meno di sei mesi dalla nomina della prefetta Giussi Scaduto a commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa a titolo gratuito, la commissione giudicatrice composta da esperti ha scelto al concorso di DET tra 15 proposte il progetto di un raggruppamento di studi con capofila Plicchi di Bologna in collaborazione con un altro studio di Trento e un altro spagnolo. Trent'anni di attese e speranze per l'ospedale che sembrano diventare realtà. Una struttura sanitaria all'avanguardia con 420 posti letto che costerà 200 milioni di euro sarà costruita in quest'area di 200 mila metri quadrati a sud del capoluogo e vicino agli svincoli dell'autostrada Siracusa-Catania e della statale 124. Dopo le verifiche la società scelta con il concorso di DET dovrà presentare il progetto preliminare, poi quello definitivo e infine il progetto esecutivo. Solo dopo queste fasi si passerà alle espropriazioni. La commissaria straordinaria stipulerà un accordo di collaborazione con il sindaco di Siracusa. C'è una sinergia istituzionale straordinaria, quindi sono davvero fiduciosa che riusciremo a centrare l'obiettivo, spero anche nei tempi. Il nuovo ospedale dovrebbe essere realizzato in due anni.